Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo glitch vi spiegherò come poter mettere qualunque veicolo, tra veicoli speciali, aerei, biciclette, nella base operativa. Allora, in primis dobbiamo essere in mira manuale ragazzi per fare il glitch, andate a vedere anche il video precedente. E quindi una volta che saremo noi e il nostro amico nella base operativa, saremo pronti a fare il glitch, ovviamente saremo tutte e due in mira manuale. A questo punto il nostro amico dovrà fare un partecipa a sessione, o sotto il menu di GTA Online, oppure in una community ragazzi. Mentre noi che cosa dovremmo fare? Entrare nell'officina, poi premere cerchio e fermarci sulla, diciamo, sull'opzione di esci dalla base operativa. A questo punto il nostro amico farà partecipa, andrà a partecipare, aspettiamo il caricamento insomma, e quando sarà nello schermo nero, ci dirà che sarà nello schermo nero, ovviamente, nello schermo di partecipare. Quindi premerà X al primo messaggio e si fermerà sul secondo messaggio. X per confermare di cambiare sessione e si fermerà sul secondo messaggio, che è quello della modalità di puntamento. A questo punto noi dobbiamo prepararci il Q di applicazione ragazzi, come avete visto, almeno un rapido. Premere X su esci dalla base operativa, tasto PS, menu rapido, chiudi applicazione ragazzi. A questo punto attenderemo che il nostro amico ci rinviti nella sessione. Andrà ad invitarci tramite party, farà un giochiamo insieme. Allora, questo metodo come il metodo precedente funziona sia per Xbox One che per PS4. Realizzato in questa maniera funziona per entrambe le console. Se invece volete provarlo voi di PS4, potete farlo anche direttamente con il lettore multimediale. Però quelli di Xbox One non hanno il lettore e non si mette in sospensione l'applicazione. Quindi fate in questo modo, dovete per forza chiudere l'applicazione. Quindi sì o sì ragazzi, per forza. E a questo punto accettiamo l'invito del nostro amico, entriamo nella nostra sessione dove eravamo prima. E lo troveremo buggato dentro la venghera ragazzi. Qui che cosa dobbiamo fare? Come vedete è nella venghera. Andiamo su un lavoro da titano, quindi avviamo un'attività, missioni, create da Rockstar, quindi start online, attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta che saremo nella missione che l'avremo avviata, dovremo attendere il nostro amico. Il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà unirsi dal party, quindi noi saremo nella schermata della missione. Il nostro amico andrà ad unirsi dal party, farà partecipo a sessione. Quando avrà lo schermo nero dovrà attendere 4-5 secondi, dipende dalla vostra connessione. E poi piggerà cerchio per schippare il messaggio dell'unione alla sessione. Gli comparirà un altro messaggio che è quello di unirsi a noi. Quando avrà l'altro messaggio ci dirà ok ce l'ho, noi usciamo dalla missione, lui si unirà, premerà X e si potrà sbaggare liberamente. Quindi a questo punto saremo nella stessa sessione, saremo sbaggati, lui sbaggato e potrà guidare nella nostra base operativa. Allora, lo scopo di questo glitch è mettere la BMX dentro la base operativa. Ne basterà mettere una sola perché con il glitch di duplicare le BMX potete fare il glitch dei soldi da solo. Ve lo riporterò in giornata. Quindi a questo punto uscite fuori dalla base operativa, portate una BMX fuori dalla base operativa, rifate lo stesso giochino, salite in auto, non appena il vostro amico tocca la portiera, voi premete triangolo e scendete, passerà al posto di guida e andrà a posizionare l'auto nell'esatto punto dove ci serve a noi ragazzi. Quindi andremo a posizionare l'auto in questo punto in maniera tale che avremo il teletrasporto e il gioco è fatto ragazzi. Come vedete il teletrasporto c'è per entrambi i giocatori. E quindi saremo pronti. Andremo dove è la tastiera di uscita, ci metteremo fronte alla macchina e premeremo X e triangolo insieme quando avremo il messaggino in alto a sinistra. Qui era una prova per vedere se mi teletrasportavo sempre. Quindi facciamo X e triangolo. Automaticamente ci troveremo fuori dalla base operativa con la LG. Per mettere la BMX dentro la base operativa basterà semplicemente rientrare nella base operativa con la LG e sostituire il veicolo con cui stiamo entrando con la LG RH8 che era dentro la base operativa. Automaticamente avremo la BMX. Con questa forma, con questo metodo possiamo mettere anche veicoli speciali, aerei, BMX, tutto quello che cazzo vogliamo nella nostra base operativa ragazzi. Il glitch è semplicissimo, approfittatene perché il glitch ha dei soldi da fare da solo, è buono secondo me come glitch. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Ciao a tutti.